Matteo Graziani è una delle due conferme della Keti Basket 1974, dunque una stagione che si prospetta molto positiva dopo i successi dello scorso anno. Sì, sicuramente l'anno scorso sono stati raggiunti degli obiettivi importanti da parte della squadra e partiamo quest'anno con la voglia diciamo di ripetersi e di mettere in campo la stessa voglia e le stesse intensità che eravamo riusciti a mettere anche l'anno scorso. Qual è stata, se c'è stata, la ricetta vincente per amalgamare il gruppo e il team dello stesso anno e che potreste ribadire anche quest'anno con le new entries? La ricetta dell'anno scorso secondo me è stata molto la forza del gruppo e la voglia di stare insieme, secondo me è stato... comunque il gruppo era super e stando bene insieme secondo me alla fine si riesce anche a lavorare bene insieme, quindi i risultati vengono da sé, sarà anche la chiave quest'anno con un gruppo giovane comunque, quindi abbiamo tutti praticamente la seta tranne alle amici che diciamo un po' più grande, però sono sicuro che non farà fatica a amalgamarsi insieme agli altri un po' più giovani e ovviamente sarà diciamo la ricerca dell'intensità in campo come l'anno scorso e la voglia di stare insieme con l'anno scorso. Ma Fezzoli è il coach che è stato riconfermato, cosa vuoi mandare a lui invece come messaggio, visto che oggi non lo abbiamo con noi? Ma niente in particolare, secondo me ripetersi come l'anno scorso che è riuscito a tenere insieme un gruppo, a far bene, a far esprimere tutti secondo me nella miglior maniera possibile e niente questo.